In compagnia di Marco Minucci per fare il punto medico in Casa Rosso Blu, partiamo da Lorenzo Alboni. Lorenzo Alboni ha avuto una lesione parziale del legamento cruciato anteriore con un edema osseo, che è abbastanza normale quando uno fa una distruzione con quelle dinamiche. Verrà valutato da uno specialista ortopedico, probabilmente il giornato, al massimo domani mattina, in maniera tale che stabiliremo il modus operandi, quindi capiremo se è una situazione chirurgica oppure no, oppure una situazione conservativa. Quindi aspettiamo notizie. Per quanto riguarda invece Luca Lulli, anche lui è uscito nel primo tempo della gara di Tolentino? Luca ha fatto un'ecografia oggi pomeriggio e è venuto fuori un problemino muscolare al sole che cercheremo di risolvere nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il punto generale, la ripresa agli allenamenti, ci sono situazioni da attenzionare? Situazioni da attenzionare diciamo di no, nello specifico di oltre i due ragazzi di cui abbiamo parlato. Il discorso di fondo adesso è dosare le energie per questo rush finale. Quindi è arrivato il caldo, rispetto alla settimana scorsa abbiamo 10 gradi in più, quindi dobbiamo cercare di gentellinare sia le forze che le energie per cercare di dare il massimo da qua a, speriamo, 15-20 giorni.